cercherò di lavorare per il bene di tutti noi siamo qui in questo studio è già sfraganato pensa cosa succede se continui questo è un po matto sempre meglio delle cazzate che teggi tu la solidarietà la partecipazione va insisto non ci saranno più bollette del gas aggiungiamo il dentista gratuito per gli anziani e aggiungo aboliremo anche quella della luce un milione gli alberi imbianchiamo la casa di tutti gratis meglio che ti ferma ritirati lavati i peli e va a curcare rappresento l'esperienza la saggezza interventi sanitari toglieremo la tassa sulla spazzatura e nostre mamme il bollo dell'auto mille euro al mese per 13 mensilità 2000 signori porteremo barche di pilo anche i navi cariche di pilo insomma mente fortissimamente pilo perfetto barche di pilo anche il progete di pilo anche i navi cariche di pilo anche per le